La gioia delle decine di tifosi casertani che sono comunque arrivati, ora non commetteranno fallo, lasceranno giocare dunque, onore alla Valori Gruppo Triboldi che chiude questa seconda esperienza fra i professionisti e sconfitta in semifinale da una grande, da una corazzata, la Pepsi Caserta che vola sul 3-0 in finale e attende l'esito dell'altra semifinale che vediamo a che punto è arrivata. 73-79 il cuore del capitano, la bella, la gioia dei tifosi casertani, del presidente Caputo, di Coccio Frates e di tutti quelli che amano la Juve, la festa comunque del pubblico soresinese che festeggia e omaggia i suoi ragazzi per una stagione strabiliante e straordinaria, guardate, è festa grande per tutti, questo è sport, questo è il pubblico del basket, amiche ed amici da casa. Fileni Trenkwalder, 38esimo, 73 a 57, sempre 16 punti, guardate l'applauso dei tifosi e l'abbraccio del presidente Caputo, vice, tutti i dirigenti casertani. Un applauso di tutto il pubblico del Palazzo Melsi in piedi, una standing ovation per la Vanoli, Gruppo Tribondi e per noi, ringraziando Annalisa Bartoli per il coordinamento da Saxarubra sulla festa casertana. La regia del basket in finale in Lega 2 2007-2008 con Marco Bonamico e la regia di Umberto Ordina, sottoscritto Franco Lauro, l'augurio della più cordiale. Buonanotte!